Eh, la faccia della pezza cos'è sta roba? Avamposto alleato vicino Vabbè, è di là, ma cos'era questo lampezzio del... è uscito la 1.7? Mmm Scusa, eh Ah no Sbagliato tasto Adesso ho qualche giorno che non gioco Ovviamente ci sarà un attimo di... Questa è la prima volta che vedo lasciar giù l'alveale, però vabbè, probabilmente perché posso lasciarlo in zona per tirar su un altro, chiaramente Però non l'ho mai usato per quel scopo lì Comunque, cassa shader l'abbiamo presa Giù Una cosa nuova questa Gli esploratori del teatro hanno individuato... Comunque i primi di aprile dovrebbero uscire... ...è il caso di farlo saltare in asia, non credi? Il tuo bersaglio sono alcune casse di munizioni corazzate nel cortile principale Servirà dell'esplosivo per distruggerle, ma dovresti trovare del C4 ... 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